Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo controller di GameSeer, il G4 Pro. Un controller molto molto simile a quello di cui vi ho parlato tempo fa, anche perché il design è praticamente identico, ma questa è una nuova versione. Il controller è compatibile con iOS, Android, PC e Switch, quindi potete utilizzarlo con queste quattro piattaforme. Come potete vedere il controller dispone dei classici tasti di un controller Xbox One. Prendiamo un controller Xbox One e vi faccio vedere. Quindi abbiamo A, X, Y e B, gli stick analogici, la croce direzionale, i dorsali posteriori, insomma è un facsimile del controller Xbox One. Con la differenza che questo controller ha questo, un comodo supporto per smartphone iOS e Android. Io utilizzo un Note 10 Plus e come potete vedere il controller è perfetto per lo smartphone, quindi potete utilizzarlo tranquillamente con il vostro smartphone, anche se ha la custodia. Anche perché non dovete collegare alcun cavo è Bluetooth, quindi una volta stabilita la connessione con lo smartphone potete utilizzarlo nei giochi compatibili. Come potete vedere, sollevando questo supporto qui ci sono due ulteriori tasti. La sincronizzazione Bluetooth avviene praticamente istantaneamente e potete utilizzarlo per giocare con il vostro smartphone iOS o Android o con il PC, se avete magari connettività Bluetooth, o con la Nintendo Switch. Da elogiare la presenza di questi supporti ruvidi ai lati, dove c'è l'impugnatura, perché ciò favorisce l'impugnatura e lo rende un controller antiscivolo, solido e quindi comodo da impugnare ed utilizzare per lunghe sessioni. Il controller ha un design molto molto simile a quello di cui vi ho parlato tempo fa, adesso prendo il controller in questione e vi faccio vedere la differenza. Eccomi qua, questo è l'altro controller prodotto da GameSeer. Come potete vedere, diciamo, varia il design più che altro, perché per il resto è praticamente identico. Anche questo controller ha questo supporto per, diciamo, smartphone. La lunghezza è la stessa, il controller è lo stesso, quindi diciamo, questa è una nuova versione che è compatibile anche con Nintendo Switch, oltre che PC e iOS Android, ovviamente. Questo controller è uscito molto molto tempo fa, ottimo come controller prodotto sempre da GameSeer, Però, ovviamente, si tratta di una versione vecchia rispetto a questa che è stata aggiornata, diciamo, quindi è una versione migliore, perché è nuova, insomma, con gli standard attuali per quanto riguarda la connettività Bluetooth. Entrambi hanno questo, diciamo, effetto ruvido all'impugnatura, quindi su Amazon personalmente non sono riuscito a trovare questo, ancora non c'è, invece questo sì. Alla fine potete utilizzare entrambi per giocare con il vostro smartphone, Android e iOS, PC o Nintendo Switch. Si collega subito, vi basterà tenere premuto, diciamo, il pulsante per la sincronizzazione, vedete, e effettuate il pairing. Vediamo un attimo se riusciamo a collegarlo al volo, Bluetooth, facciamo una ricerca, dovrebbe essere carico, quindi tecnicamente dovrebbe collegarsi. Apriamo direttamente il Bluetooth e attendiamo il pairing. Ecco qua, viene visto come un controller Xbox One, quindi potete utilizzarlo anche su iPad con i giochi Apple Arcade. E la sincronizzazione è fatta. Praticamente per la sincronizzazione dovete mantenere premuto il tasto Home, più B. In questo modo avviate la ricerca Bluetooth. Il controller permette anche di effettuare delle registrazioni video e degli screenshot nelle applicazioni, nei giochi supportati. Quindi, diciamo, è già mappato per questa funzionalità. Ma può essere, ovviamente, personalizzato a seconda dell'esperienza. Come vedete, il controller funziona perfettamente con lo smartphone. Quindi, se posizionate lo smartphone in questo modo, potete giocare anche con i giochi in streaming di Microsoft ed altre compagnie. È un ottimo controller, molto comodo, da impugnare, abbastanza longevo da utilizzare con una sola carica. Si arriva tranquillamente alla fine della giornata, quindi se volete acquistarlo, potete trovarlo sul sito web ufficiale che vi allego nella descrizione di questo video. O, in alternativa, acquistare questa versione, che è anche buona, su Amazon tramite sempre il link.